Grazie Presidente. Premetto che sia questo emendamento che l'emendamento successivo sono stati rappresentati in Commissione Bilancio. Raccolgo tutta una serie di indicazioni che servono per registrare delle variazioni necessarie a rendere coerente allo stato attuale l'assestamento di bilancio o per ridistribuire dei fondi su determinate partite che adesso vado a descrivere. I due emendamenti sia il 189 che è quello che discuteremo adesso che è quello successivo hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione. Per ciò che riguarda l'emendamento 189 registriamo delle modifiche agli stanziamenti di parte corrente e anche in conto capitale. Per ciò che riguarda la parte corrente la prima operazione è una variazione di entrata con vincolo di destinazione con una destinazione di corrispondente spesa. Quindi in realtà si tratta di accertare dei fondi che provengono da maggiori o minori contributi da altre amministrazioni. Se i consiglieri vogliono il dettaglio, parliamo di 405.325 euro destinate al Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro e a due municipi, il 12 e il 14. I consiglieri ovviamente possono vedere nella stampa ulteriori dettagli. Poi per l'annualità del 2017 registriamo un'economia di bilancio pari a 850.000 euro da destinare a finanziamento di interventi per la parte in conto capitale, un avanzo di gestione. Poi vedremo successivamente come questi 850.000 euro trovano collocazione. Sono riferiti al Dipartimento Tutela Ambientale. Registriamo anche per il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con una nota che è descritta nell'emendamento, un incremento per l'accantonamento al Fondo Passività Potenziali per un contenzioso, un porto complessivo di 2.987.491,62, relativi all'adeguamento del nodo di termini metro A, metro B, terzo stralcio funzionale, per la sentenza del Tribunale Civile di Roma, 1.085 del 23 gennaio 2017. C'è un ulteriore accantonamento di 2.987.491. Per questo accantonamento sono utilizzati in quarta parte i minori oneri relativi al rimborso dei muri a seguito, ricorderete, dell'opera di rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti che avevamo autorizzato con deliberazione dell'Assemblea Capetrolina del numero 26 del 25 maggio 2017. Abbiamo poi delle modifiche, gli stanziamenti in conto capitale, gli 850.000 euro di cui sopra vanno a finanziare per il Dipartimento Tutela Ambientale 4 poste rispettivamente di 100.000 e le altre tutte di 250.000 euro. Anche qui i consiglieri ovviamente possono trovare il dettaglio nella stampa che è a loro disposizione. E quindi ovviamente il totale sono gli 850.000 di cui abbiamo parlato prima. Parte importante sicuramente di questo emendamento è la distribuzione di maggiori entrate pari a 6.264.035.40 che sono derivanti da introiti per sanzioni alla legge urbanistica di competenza dei municipi e che vengono utilizzate per finanziare le spese come indicato dalla tabella che è riportata in emendamento e che descrivo esclusivamente a livello concettuale. Si tratta di manutenzione straordinaria strada per tutti i 15 municipi con importi diversificati che di fatto fanno riferimento alla quota che ogni singolo municipio ha contribuito ad accertare come discussione delle sanzioni fino all'occorrenza dei 6.264.000 circa di cui ho parlato prima. Di fatto quindi chi più ha accertato riceve in restituzione per la manutenzione straordinaria delle strade chi meno accertato avrà le quote corrispondenti che quindi cambiano da circa i 65.000 euro del municipio 10 fino ai 904.000 del municipio 12 con importi fra loro diversificati. Poi su questo emendamento ci sono due piccole poste, una relativamente piccola e l'altra molto piccola. La prima sono 34.000 euro che servono sempre per sanzioni da legge urbanistica che vengono destinate alla manutenzione straordinaria con interventi di ristrutturazione della sala matrimonio del municipio 10 al fine di rendere possibile la celebrazione dei matrimoni anche sulla spiaggia limitrofa al municipio. È stata una richiesta che praticamente ci dà la possibilità di attivare un servizio soprattutto nel periodo, l'estate sarà ancora lunga, che permetterà di soffrire questo tipo di servizio che sul litorale è piuttosto richiesta che quindi rappresenta potenzialmente delle entrate significative per l'amministrazione. Quindi si investono dei fondi di fatto per poter attivare un canale di entrata nuovo per ripristinarlo rispetto al passato. Poi c'è una piccolissima posta di 7.500 euro per l'acquisto di apparecchiature necessarie all'ufficio stampa che vengono finanziate con una piccolissima quota di 7.500 euro derivanti dai fondi da affrancazione per vincoli relativi al prezzo massimo di cessione. Quindi di fatto questo primo emendamento ha recepito tutta una serie di eventi e di indicazioni che la Commissione ha valutato positivamente che danno ulteriore respiro soprattutto con la parte relativa ai fondi che vengono destinati ai municipi per la manutenzione straordinaria delle strade che è qualcosa che come spirito sposa l'indicazione che questa amministrazione ha dato nei principi che sono quelli comunque nell'ottica e nel rispetto di quello che attualmente le leggi prevedono dare la possibilità ai municipi di vedere decentrate alcune funzioni e la possibilità di avere dei fondi supposte e specifiche come la manutenzione stradale che è uno dei nostri impegni che abbiamo preso nel momento in cui ci siamo candidati al governo di questa città. Per cui riteniamo che i 680.000 euro del primo municipio, gli 838.000 del secondo e così ripeto via via fino agli oltre 900.000 del dodicesimo rappresentino una possibilità non solo di destinare fondi per un obiettivo così importante ma anche dare un riconoscimento ai municipi dell'azione virtuosa che i municipi hanno nel riscuotere e accertare entrate per chi viola le regole perché le sanzioni della legge urbanistica ovviamente derivano dal fatto che qualcuno non ha rispettato le regole per cui di questo credo anche le opposizioni con la loro astensione in sede di commissione su questo emendamento di fatto ci aiutano ad andare in una direzione in cui determinati interventi al di là della posizione politica possono ritenersi in linea di principio condivisi poi è chiaro che ognuno giustamente occupa la propria posizione in questa amministrazione io su questo emendamento Presidente non avrei altro da aggiungere fermo restando che poi parleremo di quello successivo che è il 190 dove dovremo fare una riflessione di carattere leggermente diverso un approfondimento che poi rimanderò all'intervento successivo grazie